Nell'ambito dell'immigrazione una delle questioni che stiamo affrontando e sicuramente una delle più delicate è quella dei minori stranieri non accompagnati. Minori che arrivano nei nostri territori, anche in Piemonte, e hanno bisogno di essere accompagnati. Molto importante può essere lo strumento che è previsto dalla legge da poco approvata che è quella dei tutori volontari. Ma per avere dei tutori volontari è necessaria formazione e abbiamo concordato con la garante dei minori regionale e con l'università di costruire un percorso. Verrà presentato la prossima settimana e pensiamo che sia uno dei modi per rispondere a una questione sicuramente molto importante e che non possiamo lasciare senza risposte.